Non è possibile. Allora, siamo nel 2020, non è possibile che esistano ancora persone che hanno la connessione con quella di Giorgio. Quindi, cortesemente, Stato Italiano, facciamo qualcosa? Vogliamo dare delle connessioni decenti a tutta Italia? E' importante, dobbiamo finirla con l'era del Medioevo in Italia. Bisogna che ovunque ci siano delle connessioni decenti. Oh, internet è un bene primario. Giorgio, dico qualcosa. Ciao, prova, prova, bliblu. Allora, se mi votate, io propongo connessioni buone in tutta Italia. Eh, ma cos'è adesso? Beh, oh, il Lion delle libertà.